A Palazzo d'Arnolfo a San Giovanni Valdarno si è svolto un incontro fra tutti i sindaci del Valdarno, l'assessore alla sanità Stefania Saccardi, il vicepresidente del Consiglio regionale De Robertis, il responsabile dell'Asla 10 a Picciafuoco e il direttore dell'Asla Toscana Sud-Est Desideri. Il tema era quello che riguarda l'eventuale unione in un unico distretto sanitario di tutta la vallata. Un tema cardine dell'attualità del momento che vuole cercare di scongiurare il depotenziamento della sanità in vallata. L'assessore Saccardi ribadisce il fatto che i due ospedali non saranno né depotenziati né chiusi e anzi promette di incrementare i dipendenti dei presidi e conferma gli investimenti. Entro luglio la nomina poi del primario di ginecologia e ostetricia. Entro il 2016 l'assunzione del direttore di medicina e anestesia. E dentro la fine del 2017 si concluderanno i lavori per l'ampliamento del DH oncologico. Ma la notizia è che l'assessore stesso afferma definitivamente che non ci sarà lo spostamento in un'unica Asla del Serristori e della Gruccia. Ma solo un protocollo di intesa che unificherà le forze della sanità valdarnese. Mi pare che non ci sia stata una decisione unanime dei sindaci. Naturalmente noi ne abbiamo preso atto. Nel percorso di riorganizzazione delle zone distretto abbiamo lasciato molta libertà alle amministrazioni comunali di poter scegliere il proprio assetto. La legge regionale tuttavia contiene un limite che è quello di non poter scavalcare i confini delle aziende sanitarie neocostituite. Tutto ciò sarebbe stato possibile se forse ci fosse stata una posizione di unanimità dei sindaci che non c'è stata. Il protocollo di intesa, promettono le Asla, intreccerà ancora di più i rapporti fra i due ospedali e metterà ancora più in rete i presidi. Ma il tutto rimanendo comunque in due Asla distinte. Con questo protocollo operativo sanciremo quello che già i professionisti spontaneamente tendono a fare. I nostri professionisti tendono a scambiarsi, a lavorare insieme, a ragionare insieme. Cioè hanno già cominciato a fare quello che ora giustamente anche noi manager e la politica sta cercando di mettere in campo. L'ospedale lavora tranquillamente, anzi l'attività è in aumento, quindi il fatto che l'attività sia in diminuzione o che ci sia un'area di immantellamento è del tutto falsa. Anche sul SerriStory Saccardi afferma che sono infondate le accuse di chiusura da giugno del pronto soccorso dalle 19. Non ci risulta assolutamente, mi pare l'abbia già chiarito il direttore generale con un'intervista su un importante giornale pochi giorni dopo che la notizia si era diffusa. Quindi mi sembra che sia sempre la solita politica di alimentare le paure e non di aiutare i cittadini ad avere fiducia nelle istituzioni.